Virginia, penso a New Jersey, sono molto forti dal punto di vista logistico e quindi può essere molto interessante il nostro sistema logistico che guarda e mette a disposizione tutta una geografica europea estremamente importante, ma penso anche a tutti quelli legati all'innovazione, alle nuove tecnologie dove gli Stati Uniti sono molto importanti. Dall'altro ovviamente se riusciamo ad inserirci in quel mercato, riusciamo ad inserirci anche in una realtà che ha una capacità di attirare fondi importantissimi.